Sono molto emozionata di essere in compagnia del sergente Trudy Plath. Giovedì. Una città sotto attacco. Eric Mitchell? Sì. Due squadre di eroi. La nostra priorità ora è trovare il suo prossimo obiettivo. In lotta contro il tempo. Arriva il momento in cui le persone devono pagare. Ogni azione ha un prezzo. Un imperdibile crossover. In prima visione Italia 1. Signori, dovete scendere dal treno e allontanarvi subito dai binari. Forza! Chicago PD. Chicago Fire. Giovedì dalle 21.20.